RISPONDA, RISPONDA, BANITO L'ANIMA DELLI MORTACCI TUA Allora, Matteo H.O.S. Allora, che è successo? Da CRIMOUT Ma come è scemo? Adesso state cazzo Vediamo, dai, vediamo No, dai, ma vero E quindi ti tiktocchi? Ma chi è questi? Adesso mi sta buttando anche un posto di YouTube Trapano, ma chi è sta gente? Non capisco Non capisco, non capisco Piano piano Ma dai No, ma Matteo, tu Matilda Colà Noi ci conosciamo da Tipo dieci anni Forse manca amici Ci ho mai provato con te, no? Siamo anche insieme Ma io non vedo dissing qua Ma non so se sono sbagliato Io leo sto video Ma che dissing? Ma raga, ma non mi mandate I video fake A cortesia Oh, c'è Rob 3? Attenzione Poi dai, è un'ottima carriera Bello, insomma Adesso stai qua per prendere due views da Greenbound, giusto? Così almeno... Nooooo Matteo Ma questa è verità Ma questa è verità No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no Perché è stato il Don che ha scritto lei Perché è lui che fa A me è diventata in questa live Ma e tu Matilda Ora sei single? Sì Veramente? Tasto dolento, toccato? È un po' dolente Cazzo, appena lasciata Minchia, oggi proprio Guarda Matilda, io devo dire una cosa, scusa Grimbaud, guarda che Grimbaud Ha lanciato tanti content creator Per esempio ha lanciato Gaia Clerici Poi chi altro? Guarda tu Max Proietti Dimmi Max Proietti Sei live Eh, il primo Il primo Rubino Ti apro subito Allora, io voglio vedere Cosa dirà Matilda HS Tu hai visto qualche spezzone? Ho visto proprio l'ospizione Ah, ho visto proprio l'ospizione Ok, ok, allora vediamo Voglio vedere Rubino era morto da fame e non se lo cagava a nessuno Non se lo cagava a nessuno prima di te Ma chi se lo unculava? Eh dai Ma rimortalasci tua No, scusa Non ho capito bene Forse non ho capito bene Ma C'è qualcosa? Ma nessuno prima di te Ma chi sono un culo altro? Eh, chi ci sta? Rubino pure Rubino Rubino Ma come rubino? Ma sta scherzando Ma sta scherzando Ma ha fatto un botto Ma ti ha addissato Ti ha addissato La clip su TikTok l'hanno tagliata In modo che lui sembrava che non stava scherzando Sta scherzando Era morto da fame e non se lo cagava a nessuno No Non se lo cagava a nessuno prima di te Ma chi se lo unculava? Eh dai Ma ci aveva 15 più se ci aveva Ma quale 15 più se ci aveva? No, prego, prego Ma quale 15 più se ci avevamo 16 a 7 Arrivavo pure 30 alle volte Alle volte pure 39 Sì, bravo, ti ricordi, Daniele Bravo, bravo Alle volte pure 39 Eh Eh Beh La comunità LGBTQ+, Così, a buffo? No, volevo Incipit Incipit Sei sempre assito? Mi senti tutto a un limone davvero? No, no Non scherziamo con questo Dopo che hai iniziato a fallare Io ho iniziato a fare mille Tu mi la vi uso Ma che cazzo sono unculavo? Ma che mille Ma manco stiamo a 500 No, siamo arrivati a 500 Ma sai Ma Matteo Ma qui C'ho i miei pezzi al culo Ma che cazzo Dai Scherzando, scherzando Diceva Dai No, teo Ehm, sto scherzando Ti voglio mettere Eh, mi ha pupito Il trencone Insomma No, no Si incazza Per carità di Dio No, se ci mette in mezzo l'avvocato dopo No, no No, sicuramente la live di domani E ora basta Ma te ho chiesto esagerato No, vedi Non conosce neanche Grimba No Rispondo altissimo Alle volte Simone Si perde in queste cose Eh, sono cose importanti Sì, sì Ma infatti te vedo proprio Costipato Ti vedo un po' Sono costipato Sono costipato Te vedo, vabbè Eh, ma Grimba si perde in queste cose Con quella Non lo so, non lo so No, però Allora, ma a parte i scherzi Vabbè, vabbè A parte i scherzi comunque, raga Cioè io ho visto che stava scherzando E a parte Una marea di gente Max mi ha inviato la clip Dicendo Ma guarda che tu Guarda che tu stavano Ieri pure Arcerpero Quando stavamo Arcerpero Cioè Chi te lo scriveva in chat T'ha dissato T'ha dissato Come no? Sì, io Ma io non me ne so' accorto Rubino è la palla sinistra De Grimba Pure a destra Dipende dalla posizione Vabbè, dai Potrebbe essere Basta che devi stare attento Quando ha cavallato le gambe Lì te schiaccia Te fa male Tremendo Teribile Matteo però Dal suo canale Ha rimosso il VOD Con Grimba Per i dissing Vabbè, ma sti cazzi Io ho parlato con Matteo E Shal E Shal Dai, ma stava Veramente Non è un dissing vero Stava scherzando Uno può dire Che magari è un po' esagerato Ma non ha dissato davvero Dai Non era un dissing vero Su Allora Eh c***o RISPONDA RISPONDA Bavido Clippo rettigliani L'anima degli mortacci Tua